non puzzo non puzzo proprio neanche mi sottopalla puzzo madonna santa ma che mi botta ma non vedete la chat come scrive che non si legge neanche tra poco poi viene le persone dicono ah che schifo spammano me ne vado ma com'è un chat veloce perché c'è tanta gente in live sono tutti veri i miei spettatori ve lo assicuro io scommetto io milioni di euro adesso che sono tutti veri i miei spettatori provare in altre live con i miei spettatori e non c'è questo spam due domande te le fai no due domande te le fai no streamer di gta con 2000 spettatori che scrivono il moderatore company il fratello e la mamma possiamo dire possiamo dire sta cosa come l'ho notato io come l'ho notato io lo noto anche Twitch anche Twitch e prima o poi per i repannati e io là ma faccio una grande veste mano non me ne f***o proprio si ma bannana me ne f***o proprio ma io godrò godrò cosi tanto che il muovescio in mano sarà la più bella della vita mia ma già sfruttavo questa cosa ne esiste ne esiste niente grazie per il bit bello faccia i nomi maestro nomi non se ne fanno sapete già chi sono già sappiamo qui sono grazie per il bit bello rimani comunque uno streamer buttato anche se molto goliardico tesi rosica 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 guardate caso appena il cerbero appena il cerbero ha detto quella cosa di GTA tanti streamer di GTA no no caso ma un'altra volta così sono a fa li stanno a mettere un'altra volta va bene c'è però parla ma così pronto adio subito adio subito subito abil subito 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 uc con … Grazie a tutti.